Un evento straordinario per la città di Andria, per la diocesi di Andria ma anche per un po' tutta la religiosità mondiale. La sacra spina custodita proprio all'interno della curia vescovile qui della città di Andria, della diocesi di Andria, ha mutato il suo aspetto e questo è un importantissimo segno, come lo definisce Monsignor Manzi, un segno della vicinanza di dio a questo momento particolarmente difficile di emergenza da Covid-19. Un segno il cui significato però abbiamo voluto chiederlo direttamente a Monsignor Manzi per questo evento assolutamente eccezionale. Il Signore ci ha dato un segno della sua vicinanza, della sua presenza in mezzo a noi. Noi ne avevamo bisogno perché gli eventi dolorosi che stiamo vivendo in tante nostre città e in tante anche nostre famiglie ci avevano portati a vivere momenti di grande sconforto, di abbattimento. Ecco, il Signore con questo segno ci ha voluto dire non abbiate paura, io sono con voi, non siete soli e anche se c'è da affrontare il tempo della prova in maniera dura, state sereni perché io sono con voi e l'esito sarà comunque un esito di gioia e di festa. È la Pasqua del Signore. Ed ora è previsto nel lontano 2157. Il prodigio si verifica infatti in occasione degli anni in cui l'annunciazione, cioè il 25 marzo, coincide con il venerdì santo. Si prosegue con il monitoraggio della Sacra Reliquia. Sì, la Sacra Reliquia è sotto osservazione, sotto monitoraggio di strumentazione diciamo molto adatta all'occorrenza ed è già da diversi giorni sotto osservazione e lo sarà fino a tutta la giornata di domenica, di Pasqua, di domani. Giornata di Pasqua che vedrà anche una cosa importante per la televisione, per Telesveva. Ci sarà una messa in diretta da lei ufficiata alle ore 18. Sì, io ho accolto molto volentieri l'invito, il vostro invito a rendermi presente con la celebrazione eucaristica proprio nel giorno di Pasqua che faremo giù nella Cappella della Cattedrale per tutti coloro che non potranno andare in chiesa e che seguono la vostra emittente. Molto volentieri ho accolto il vostro invito e quindi ci vedremo domani alle 18 per la celebrazione eucaristica della Santa Pasqua.